Benvenuti In questo video vediamo il botone Seagal Wing Questo è illuminato Ha 5 punti di connessione Questi due sono per la lampa Questi tre per il botone di connessione Se vuoi la lampa sempre azzurata Connetevi solo a livello DC alle terminali lampi e si resta sempre Se vuoi la lampa di connessione Se vuoi la lampa di connessione Se vuoi la lampa di connessione Faccia una scelta tra questo terminal che è marato C che si tratta per Comune e uno dei terminali della lampa Se vuoi usare la lampa di connessione o il centro o il centro se vuoi usare la lampa di connessione Se vuoi usare la lampa di connessione se vuoi usare la lampa di connessione se vuoi in questo modo se vuoi usare la lampa di connessione se vuoi usare la lampa di connessione